Ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato, nella città di Davide, il Salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi segno. Troverete in una mangiatoia un bambino avvolto in fasce. Essere visitatori del presepe vivente di San Polo Matese, in provincia di Campobasso, il 26 e 27 dicembre 2014, è esperienza unica di fede. E nella fede che sentirai in te, man mano che percorrerai la stradina del presepe, fino alla rinascita del bambinello, nella grotta, anche tu sentirai germinare in te una fede più profonda, un voler essere migliore. Il presepe vivente di San Polo Matese è percorso spirituale che mai, come oggi, è abbisognevole fare. Perché mai, come oggi, diventa punto di partenza, anzi, di ripartenza, per vivere appieno la tua esperienza di vita cristiana. Grazie a tutti.